Attacca la Sampedoria con Cassano, ha due giocatori di fronte a sé, l'avvertura di Cassano per Padalino, accede da Padalino, prende velocità Criscito, il cross, palla sotto porta, riesce ad allungare Mesto, poi un'agrobazione a Milanetto, ma non è finita, è un assedio, Palombo perde l'equilibrio, rischia il dribbling e perde palla, arriva Milanetto, attenzione, due contro zero, avanza Palladino, dovete castellarsi, porta nota, Milito, Milito, rete, 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 che balla sul derby, infanzisce Barassi, Palombo poteva allargare la palla, voleva calciare in porta, contrasto, in questo caso c'è stato due contro uno, e due dietro a linea del centro campo, e poi è stato altruista Padalino, al cuore di una grande gara, ha dato la palla per fare la trippetta a Milito, migliore